Andavano in giro per la Sicilia a bordo di un camper adibito a vera alcova amorosa, a caccia di partner, prestanti e facoltosi, ma soprattutto disposti a pagare 80 euro per mezz'ora di trasgressivo menage a Troyes. Lei, Mary, 46 anni, bella amore e prosperosa, lui, Antonio, passivo e contemplativo, che preferiva guardare la moglie intrattenersi con l'ospiro di turno, salvo poi batter cassa. La coppia, dall'amore itinerante, è stato avvissato ieri nel parcheggio di un centro commerciale nel Catanese. Sono stati alcuni clienti ad allertare una pattuglia della squadra volanti, incuriositi da quel viavà insolito di uomini in fila davanti alla portiera del camper. Alla fine, i due sono stati colti sul fatto. I clienti hanno confermato l'adescamento su internet, la pronotazione dell'incontro e il pagamento, a finire in carcere l'uomo accusato di sfruttamento della prostituzione.